Oltre due chili di hashish confezionati come barrette di cioccolato, la scoperta all'interno dell'auto di un 19enne della provincia di Teramo in trasferta a Pescara. Per il giovane incensurato sono scattate le manette. I polizzotti di Pescara hanno notato il suo nervosismo durante una normale operazione di prevenzione sul territorio. Quando gli operatori della squadra mobile si sono avvicinati alla sua auto ferma davanti al centro commerciale per un controllo, hanno scoperto sotto il sedile del passeggero una bussa contenente ben 40 barrette di cioccolato, confezionate come se fossero snack di note marche, ma rivelatesi in realtà panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 2,1 kg. Si stima che lo stupefacente avrebbe potuto fruttare, una volta rivenduto al dettaglio, un ricavo di circa 15.000 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme alla somma di 450 euro in contanti, presumibilmente legati all'attività di spaccio. Il 19enne è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.